Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi torniamo su Fairlight per parlare degli attributi delle clip audio e in particolare ci soffermeremo sulla modifica del formato e sulla rimappatura dei canali audio. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare, quindi gli attributi delle clip audio su Fairlight. Ora vediamo un altro problema da risolvere all'interno di Fairlight e anche questo è un problema abbastanza frequente. Abbiamo questa timeline montata nella edit page, l'abbiamo passata su Fairlight e ora dobbiamo aggiungere un voiceover. Quindi mi sono creato una traccia mono, quindi 1.0, perché immagino che il mio voiceover sia mono. Però il voiceover non lo registro all'interno della timeline di Fairlight come abbiamo visto ieri, ma ci viene passato direttamente tramite file. Questo file lo andiamo a trovare all'interno del MediaPool perché l'abbiamo già caricato dentro la cartella audio ed è questo. Allora se io ci clicco sopra si apre all'interno di Fairlight, sempre all'interno del MediaPool, una finestra di riproduzione con la forma d'onda dei due canali. Allora se io lo ascolto un attimo, vado all'inizio, la voce si sente ma c'è un problema e lo si nota anche dalla forma d'onda. I canali destro e il canale sinistro sono fondamentalmente differenti e con ogni probabilità il canale sinistro ha qualche problema. Questo succede quando ad esempio ho collegato più sorgenti audio allo stesso registratore, può essere l'ingresso della camera o l'ingresso di un registratore digitale e chiaramente la qualità dei due microfoni è differente e guardando questa forma d'onda già capisco che il canale destro è quello da utilizzare. Quindi devo fare in modo di passare all'interno della mia traccia in voiceover unicamente una clip che contiene il canale destro. Come si fa a fare una cosa di questo genere? Si prende la clip all'interno del MediaPool di Fairlight, si fa tasto destro e si va a cliccare su Clip Attributes. Dentro gli attributi della clip vado nel tab audio ed ecco che qui compare la mappatura dei canali. Allora, il formato della mia traccia è un formato mono formato da due track come possiamo vedere. Quindi mi è stato passato un file dato da due tracce entrambe mono. In una è presente questo canale, nell'altra è presente questo canale. Siccome io voglio utilizzare unicamente in una sola traccia ed è una traccia mono. Perché è una sola traccia? Perché in timeline io ho inserito un'unica traccia per il voiceover e un'unica traccia mono. Quindi la cosa che devo fare io è cancellare la traccia che non mi serve. Quindi in questo caso è il canale 1 che corrisponde a questo, è il canale che non mi serve e quindi vado a cliccare sull'iconcina del cestino. E adesso la mia traccia sarà convertita in un'unica traccia mono con un solo canale che coincide con questo ingresso microfonico. Faccio ok e vedete che è tutto corretto. Adesso posso prendere la mia traccia e spostarla direttamente all'interno del voiceover. Ma se avessi il problema contrario, cioè torniamo indietro, io voglio la traccia stereo, quindi la converto in stereo. Però io qua mi trovo negli attributi della clip una traccia mono. Come faccio per renderla stereo? Allora la cosa che devo fare è convertire il formato da mono a stereo. E vedete che i canali devono essere entrambi sul canale 2, quindi il canale destro e il canale sinistro devono coincidere con il canale buono, perché se mettessi l'1 lui va a prendere il canale difettoso. Quindi se faccio così e faccio ok, vedete che la traccia viene convertita in stereo, i due canali chiaramente sono identici. Prendo la mia clip e la porto in timeline. Ritorniamo a una nostra traccia mono. L'altro modo, forse più veloce ma un po' meno elegante, è dire. Mi li porto come se fossero due canali mono, quindi primo canale mono, poi aggiungo un altro canale mono, quindi metto due canali mono, il primo magari col canale sinistro e il secondo col canale destro. Un po' come era in origine, insomma. Mi riporto nella situazione originale. Faccio ok ed ecco che c'è il canale difettoso più quello buono. Per valutare la bontà dei singoli canali forse mi conviene portare in timeline direttamente queste due tracce mono. In effetti se io prendo la mia clip e la porto in timeline e lascio, vedete che mette il primo canale mono sul voiceover che era già creato e in più crea un'altra traccia mono per posizionare l'altra traccia mono della sorgente. Quindi già vedo che le forme d'onda sono diverse, adesso le possiamo ascoltare. Accendo magari solamente quella buona, quindi l'audio 2, lo ascolto. Ciao e bentornato su Impara da Vinci. Questa è quella buona, se vado in quell'altra probabilmente avrò dei problemi. Ho bentornato su Impara da Vinci. Ecco, questo microfono chiaramente non ha le stesse performance dell'altro, quindi o cancello la traccia e tengo buona la traccia audio 2 oppure, per fare prima, cancello questa clip e porto la traccia buona su voiceover. All'interno delle attributi della clip, come abbiamo intravisto, non ci sono solamente le tracce mono e le tracce stereo, qui si parla anche di audio multicanale, ma avremo modo di parlarne più avanti nel corso dei tutorial di Fairlight. Se hai delle domande in merito all'impostazione degli attributi delle clip, audio all'interno di Fairlight ti invito a farle qui nella sezione e commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial.